Che è una partita speciale, l'ho visto due mesi fa. Che è una partita molto importante per i tifosi, per la società, per la squadra, anche per noi. È normale, il nostro grande avversario, il nostro rivale. Come arriviamo? Arriviamo in un momento, credo, giusto, un momento ottimo. Ho visto lavorare la squadra questa settimana in l'atteggiamento migliore, credo, che io sia qui e sono contento per tutto quello. Arriviamo in un stato, credo, un momento giusto. Mi dispiace tantissimo quello che è successo a Francesco. Per noi è sempre importante contro la Lazio di più. Ma questa è una situazione che sempre circonda i giocatori e che è normale che succeda a volte. In quello che mi fai la domanda di Pjanic, Pjanic è un caso come il resto dei calciatori che hanno in nazionale. Quando ritornano, dopo le partite importanti, è sempre difficile vedere in che stato vieni, che partite ha fatto e tutto quello. Oggi si è allenato bene con tutta la squadra, ha fatto tutto bene, al 100% e sta a disposizione. Sono contento. Non cambia la regola del calcio, è lo stesso. Due porta, dobbiamo fare un gol di più che l'avversario. è una situazione particolare. Loro sappiano ottimamente come devono vivere la sua... o che cosa devono fare come professionista. C'è sempre la possibilità di chi vuole rimanere qui perché la sua situazione familiare è migliore così. Chi non rimane alla sua casa prepara la partita come... Io credo che si deve preparare. Non ho nessuna situazione per me diversa.